ciao ragazze la favola di miss mondo per voi del veneto e trentino inizia in questa meravigliosa piazza villa contarini a piazzola subretta credete in voi e regalatevi forte emozioni per realizzare il vostro sogno iscrivetevi a miss mondo il concorso più antico e prestigioso del pianeta www.mismondo.it vi aspetto